La Battipagliese, dopo la sconfitta di domenica ad Agropoli, raccoglie solo un punto contro il Faiano, che ha bloccato sul 2-2 i padroni di casa. Dopo essere andati sotto 2-0 in soli 9 minuti, le Zebrette hanno avuto una reazione d'orgoglio trovando la rete che ha accorciato le distanze con Guerrera e poi il meritato pari con Di Biase ad inizio ripresa. Nel finale, ripetute occasioni da rete da entrambe le parti che non hanno portato a risultati concreti. Grazie